Buonasera e bentrovati in questa terza edizione del Tg6, apertura dedicata ad una ampia pagina di cronaca giudiziaria. Ieri pomeriggio, dopo quasi sette ore di Camera di Consiglio, la Corte d'Appello dell'Aquila ha emesso la sentenza di secondo grado del processo Sanitopoli, dimezzando la pena per l'ex presidente della regione Ottaviano del Turco. Vediamo. Se tra le sedazioni di denaro delle 24 accertate in primo grado, che hanno rideterminato la condanna a 4 anni e 2 mesi per l'ex presidente della regione Abruzzo Ottaviano del Turco, c'è anche quella più famosa e discussa del sacchetto di mele, con il quale Angelini ha raccontato di essere uscito da casa dell'allora governatore a Collelongo, lo scopriremo solo il 18 febbraio del prossimo anno, quando la Corte d'Appello dell'Aquila, preseduta dal giudice Luigi Catelli, depositerà le motivazioni della sentenza di secondo grado del processo Sanitopoli. Per l'ex presidente la pena è stata praticamente dimezzata, però per la Corte c'è il reato di associazione per delinquere per induzione in debita, cioè la vecchia concussione. Comunque, in attesa delle motivazioni, sembra reggere l'impianto accusatorio della Procura di Pescara, che si basa anche, ma non solo, sulle rivelazioni di Vincenzo Angelini, assolto in appello, all'epoca dei fatti, dominus della sanità privata abruzzese con il gruppo Villapini. I suoi interrogatori fiume fecero scattare, nell'agosto del 2008, le manette per l'ex governatore e parte della sua giunta. L'assoluzione di Angelini, condannato in primo grado a tre anni e sei mesi, è stata letta dal suo avvocato Gianluigi Tucci, come la conferma dell'attendibilità delle testimonianze rese al pool della Procura di Pescara, composto da trifuogi Bellelli e Di Florio. Una attendibilità sulla quale, invece, la difesa di Del Turco ha sempre battuto, anche durante l'appello, continuando a ripetere che non c'era traccia delle dazioni. L'appello ha scontato le pene anche per altri imputati di questo maxiprocesso. L'ex segretario della Presidenza del Turco, Lamberto IV, condannato a sei anni in primo grado, scende a tre in secondo. Luigi Conga, ex manager dell'Asle di Chieti, viene condannato a tre anni, pena condonata rispetto ai nove del primo grado. Così come nove anni aveva preso anche Camillo Cesarone, allora capogruppo in consiglio regionale del Partito Democratico, che con l'appello scende a tre anni di reclusione. Riduzione anche per Antonio Boschetti, ex assessore regionale all'agricoltura, un anno e otto mesi rispetto ai quattro del primo grado. Discorso diverso per l'ex assessore alla sanità Bernardo Mazzocca, che si è visto confermare la pena a due anni e un mese, e per Angelo Bucciarelli, braccio destro dell'assessore alla sanità, assolto in primo grado e condannato in appello a due anni, pena sospesa. Assoluzione invece per Vito Domenici, mentre Sabatino Aracu esce di scena per intervenuta prescrizione. Discorso a parte, meritano i risarcimenti danni. Del Turco, Cesarone, Quarta, Mazzocca e Boschetti dovranno rifondere alla regione due milioni di euro. In più dovranno risarcire anche le asle con 400 mila euro totali. Spetterà il risarcimento anche a Vincenzo Angelini e al fallimento delle sue cliniche, ma la somma sarà valutata in separata sede. Sanitopoli comunque non finisce qui, le parti continueranno a darsi battaglia in Cassazione. E sull'esito del secondo grado del processo Sanitopoli si è espresso anche il presidente emerito della regione Abruzzo, Gianni Chiodi, che ha dichiarato da un punto di vista umano lo avrebbe fatto più felice una assoluzione. Mentre l'attuale presidente della regione, Luciano D'Alfonso, questa mattina si è espresso così. Io sono anche amico personale e nella mia dimensione individuale ho sperato che ci fosse un esito diverso. Mi dispiace profondamente perché conosco il dolore che si vive in quelle condizioni. E veniamo ora all'altra sentenza che era attesa nella giornata di ieri ed è arrivata in effetti in prima serata. La sentenza sul processo grandi rischi, una sentenza che ha assolto tutti gli scienziati, tranne l'ex vice capo della protezione civile che è stato condannato a due anni. Ebbene il chirurgo Aquilano Vincenzo Vittorini mette in evidenza la condanna e non le altre assoluzioni. Una vittoria importante nei confronti dello Stato e quindi della protezione civile che ha sbagliato e che è stato condannato. Così il medico chirurgo Aquilano Vincenzo Vittorini, che la notte del terremoto perse la moglie Claudia e la figlia Fabrizia, commenta la sentenza di assoluzione per i membri della commissione grandi rischi, tranne che per uno. Vittorini, anche consigliere comunale con il gruppo civico Appello per l'Aquila che vogliamo, punta l'attenzione sulla condanna della Cassazione di Bernardo De Bernardinis a due anni di reclusione. Non un pincopallo qualunque, rincara Vittorini, ma l'ex vice capo della protezione civile che rassicurò ingiustificatamente la popolazione aquilana pochi giorni prima del terremoto che devastò l'Aquila. C'è la conferma che non eravamo dei visionari, ma c'è il fatto che ad Aquila ormai è una pietra miliare, ad Aquila lo Stato ha sbagliato, lo Stato ha rassicurato, lo Stato è causa delle morti. Si continua a portare avanti un'operazione mediatica cominciata prima del terremoto, proprio con la riunione della commissione grandi rischi all'Aquila per difendere lo Stato in tutti i modi possibili, dice ancora Vittorini. Se la commissione grandi rischi nelle figure dei suoi scienziati che rassicurarono la popolazione aquilana oggi ha ricevuto l'assoluzione con un escamotage, secondo Vittorini, vuol dire che non ha ragione di esistere come organo scientifico della presidenza del Consiglio dei Ministri, che in quei giorni allora quale ruolo aveva? Si chiede ancora Vittorini. Cosa vennerò a fare all'Aquila? Da tutte le parti oggi si titola assolta la commissione grandi rischi, no, assolta la XXXX, perché è stato acclarato che non era la commissione grandi rischi, secondo i giudici. Rammaricato per le parti civili che sono state tirate fuori dal processo, Vittorini è pronto a continuare la sua battaglia verso la verità e riferimento al processo satellite grandi rischi bis rinviato al 4 marzo del nuovo anno, che si chiami processo a Guido Bertolaso, puntualizza Vittorini. L'ex numero uno del Dipartimento di Protezione Civile è chiamato a rispondere della telefonata intercettata e poi finita la ribalta delle cronache con l'allora assessore regionale alla Protezione Civile, Daniela Stati, in cui Bertolaso parlava di operazione mediatica perché, disse, vogliamo rassicurare la gente. Nello stesso giorno in cui c'è la condanna dello Stato e della Protezione Civile, inizia il processo a Guido Bertolaso, che è il mandante dell'operazione mediatica e delle morti. Quindi la battaglia continua ed è una battaglia che si fa per verità e giustizia, non per le singole parti civili, ma per le 309 morti. Ed è stata una settimana molto difficile sul fronte degli incidenti stradali, una settimana che ha portato a tante vittime. L'ultima, purtroppo, arriva nel primo pomeriggio di oggi. Una donna di 52 anni è morta appunto in un incidente stradale avvenuto sulla superstrada Vezzano-Sora, all'altezza di Civita D'Antino, sempre chiaramente in provincia dell'Aquila, nei pressi di un distributore di benzina. Le forti piogge potrebbero essere all'origine dello scontro tra due veicoli, su uno dei quali viaggiava la vittima, Filomena Buffone, di Balsorano. Sul posto sono intervenuti operatori del 118, vigili del fuoco di Avezzano e i carabinieri della compagnia di Tagliacozzo per i rilievi. Ancora la cronaca, blitz nel quartiere di Rancitelli, a Pescara, centrale dello spaccio della costa adriatica. Gli agenti della sezione antidroga della squadra mobile hanno arrestato Emilio Gagliari, 48 anni, pregiudicato, trovato in possesso di quasi 80 grammi di cocaina. A destare i primi sospetti è stato il fatto che l'appartamento di Gagliaro, al primo piano di una vecchia palazzina di Via Trigno, era l'unico ad avere una porta blindata. I poliziotti, dopo qualche giorno di appostamento, hanno deciso di fare irruzione da una finestra lasciata aperta, arrampicandosi su una scala, come abbiamo visto. Nella perquisizione hanno trovato all'interno dell'abitazione un sacchetto contenente la droga che custodiva nel comodino della camera da letto, che sarebbe bastato per il confezionamento di 150 dosi, con un valore di mercato di oltre 5.000 euro. Gagliaro è stato arrestato e trasferito in carcere a disposizione del pubblico ministero Paolo Pompa. Sono in corso indagini per risalire sia ai fornitori che ai destinatari della droga e per accertare ulteriori eventuali responsabilità. Macellazione clandestina, diffusione di malattie, adulterazione di sostanze alimentari, falso e occultamento di atti. Con queste accuse la Procura della Repubblica di Avezzano ha indagato 10 persone residenti nella Marsica. Dall'Alba, agenti del Corpo Forestale dello Stato, in collaborazione con le guardie del Parco Nazionale d'Abruzzo e Molise, stanno eseguendo perquisizioni domiciliari. L'operazione è estesa anche ai territori di Foligno, in provincia di Perugia, e Isola Liri, in provincia di Frosinone. Il Presidente della Regione, D'Alfonso, questa mattina ha annunciato l'arrivo di oltre 10 milioni di euro provenienti dal Governo e destinati alle aree a rischio idrogeologico. 11 milioni provenienti dal Governo e destinati alle aree a rischio idrogeologico. Luciano D'Alfonso elenca ogni stanziamento deciso sul territorio regionale annunciando dapprima l'arrivo di una prossima tranche sempre dal Governo e lanciando poi un monito a chi, prima di lui, non ha saputo pianificare un controllo capillare sul territorio. La buona amministrazione prima di tutto mette in sicurezza il suolo. Da Presidente della Giunta regionale ho conosciuto la debolezza del suolo e del sottosuolo dell'Abruzzo, la dispersione delle acque, la sua friabilità, la sua fragilità. Era necessario mettere in campo un programma importante di mitigazione del rischio idrogeologico ma anche di fronteggiamento delle criticità che noi abbiamo ereditato. Certo, faremo anche una norma che concerne il consumo zero del suolo. Noi attraverso questo insistente programma di circa 217-218 milioni di euro abbiamo coperto per adesso il 70-75% delle emergenze. Tra le novità introdotte da Luciano D'Alfonso un nuovo portale Regione dice, Regione fa, all'interno del quale sono presenti tutte le attività in svolgimento, i fondi stanziati e le iniziative tra le priorità del territorio e consultabile da cittadini e addetti all'informazione. Adesso scatta un'altra fase che è quella del controllo della qualità e della quantità dei lavori. Perché sono talmente tanti che adesso c'è il problema di controllare la qualità esecutiva dei lavori. Quello che è certo è che anche dando seguito al lavoro che sta facendo Mazzocca con i consiglieri anche della Commissione ci doteremo anche di una norma che blocchi il consumo invasivo del territorio. Assolto in appello il branco che nel 2008 in occasione del carnevale di Sant'Egidio alla vibrata all'interno del capannone fieristico avrebbe abusato di una ragazzina all'epoca di 14 anni. Cade ogni accusa e quindi la condanna inflitta in primo grado dal Tribunale di Teramo ai quattro imputati oggi più che ventenni. Due di loro vennero condannati a quattro anni e quattro mesi di reclusione gli altri a quattro anni di reclusione. E tutti all'interdizione dai pubblici uffici e ad altre interdizioni oltre al pagamento delle spese processuali e di una provvisionale in favore della ragazzina presunta abusata. I giudici aquilani hanno ribaltato la sentenza assolvendo gli imputati perché il fatto non sussiste. Le motivazioni saranno rese note fra 90 giorni. Ancora incerto il piano per la bonifica di Bussi dopo le vicende giudiziarie e ora a ritardare le operazioni di bonifica. Ci sono i ritardi e il rischio è quello dei termini di scadenza. Si è alzato dal tavolo dicendo stiamo parlando della più grande discarica d'Europa. L'occasione era il convegno nazionale di legambiente. Il sindaco di Bussi, Salvatore Lagatta, incaricato dell'apertura dei lavori, spiega tutta la sua indignazione sul caso della bonifica e le occasioni mancate dalla regione. Sono amareggiato perché si rischia, ma io sono ancora speranzoso, si rischia di perdere la possibilità di usare 50 milioni per bonificare un'area a mondo del sito industriale. Si rischia che non venga messo in sicurezza il sito industriale. Si rischia di perdere quei pochi lavoratori che sono rimasti ma soprattutto si rischia che il nuovo imprenditore che portava 200 lavoratori in più vada a investire in un altro luogo. Io credo che la politica, le istituzioni, il sindacato, i cittadini devono in questo momento unirsi per puntare al raggiungimento di questo obiettivo. Perché la regione non si è presentata? Io posso pensare tante cose e non le voglio dire adesso. Mi hanno raccomandato in molti, e io non sono il tipo che si fa raccomandare, ma questa volta accetto il consiglio, di rimanere calmo per un po' di tempo perché forse la soluzione è all'orizzonte. Ci sarà il tempo dove saranno fatte le denunce politiche, anche quelle legali. La senatrice del Partito Democratico Stefania Pezzopane spiega le più importanti novità in fatto di ricostruzione privata e di ricostruzione delle chiese e annuncia una trattativa con i Ministeri dell'Interno e della Giustizia sugli obiettivi ancora da raggiungere. Vediamo. Importanti novità sulla ricostruzione privata e delle chiese dell'Aquila e dei comuni del Cratere sono contenuti negli emendamenti presentati dalla senatrice Stefania Pezzopane e inseriti nella legge di stabilità. Oltre alla proroga dei contratti dei lavoratori precari impegnati negli uffici speciali per la ricostruzione nei comuni dell'Aquila e del Cratere, 165 lavoratori in tutto, le novità riguardano soprattutto la ricostruzione privata e delle chiese. Con le nuove norme introdotte anche il patrimonio ecclesiastico infatti seguirà procedure pubbliche e quindi più trasparenti perché ha soggettato al provveditorato delle opere pubbliche. La Curia con i suoi appalti milionari in sostanza non potrà più seguire procedure di natura privata e affidare appalti in forma diretta. Tra il decreto enti locali e questa norma cambia parecchio. Nel decreto enti locali abbiamo praticamente dato l'opportunità alle sovrintendenze di acquisire le progettazioni che già la Curia aveva messo in campo e quindi un'accelerazione enorme dei lavori. Pensiamo al Duomo che si era bloccato in maniera terribile per anni. Con questa legge di stabilità assoggettiamo alle medesime procedure, quindi sotto provveditorato opere pubbliche, anche le chiese e le strutture religiose di più recente costruzione. Per quanto riguarda la ricostruzione privata invece, la senatrice Pezzopane, in linea con le richieste del sindaco Massimo Cialente e del procuratore generale Fausto Cardella al governo, reputa necessarie le norme che garantiscano legalità e trasparenza, come l'introduzione delle minigare, le wet list e le procedure più rigide sui subappalti. Tutte le ultime inchieste, dai puntellamenti agli appalti truccati, risalgono ad un periodo precedente, al 2012, spiega la Pezzopane. Ora ottenuti questi risultati, il passaggio successivo, annuncia ancora la senatrice, sarà quello di trattare direttamente con i ministeri dell'interno e della giustizia, per sensibilizzare i ministri Alfano e Orlando sulla questione L'Aquila. Le inchieste di queste settimane risalgono tutte a fatti proprio del post terremoto o degli anni a seguire, quando alcune delle normative che abbiamo inserito recentemente non c'erano. Però sarebbe sciocco non riconoscere che quelle normative buone che abbiamo inserite andrebbero ulteriormente rafforzate, così come richiesto anche dal sindaco dell'Aquila e soprattutto dal procuratore Cardella. Visita a Pescara quest'oggi per l'ex presidente del Senato, Franco Marini. L'occasione è la presentazione di un convegno dedicato al centenario della Prima Guerra Mondiale. I nostri microfoni ha spiegato la sua posizione sull'attuale conflitto contro il terrorismo islamico. Quando un popolo si scoprì in azione. Nel centenario della Prima Guerra Mondiale, Pescara dedica due giorni improntati alla conoscenza della storia per non ricadere negli stessi errori. Il 24 maggio 1915 l'Italia entrò nel primo conflitto mondiale e a distanza di cent'anni si ricorda quella stagione. Lo facciamo anche a Pescara con una due giorni di grande livello in cui si discute, si ricorda e in qualche modo si vuole lanciare un seme anche per le nuove generazioni. A presenziare all'importante appuntamento c'è Franco Marini, ex presidente del Senato, che oggi, alla luce dei fatti di Parigi e di quello che è scaturito successivamente, compie una riflessione sulla guerra nel XXI secolo. Come si deve comportare l'Italia dopo la chiamata alle armi della Francia? Devo dire che resta sempre questa aspirazione alla pace. Bisogna togliere però le condizioni, le ragioni degli scontri, come dicevo. Ora, non invoco la guerra, però una posizione ferma ed anche una risposta a questo dilagare, di questa forma di guerra diversa ma pericolosissima, un segno che l'Europa, assieme alle altre potenze occidentali, dia una risposta e mostri la capacità di resistere. Questo è necessario, lo facciano i governi. Noi abbiamo anche una direzione proprio con questo all'ordine del giorno nazionale del Partito Democratico. Io credo, ma la posizione del Presidente del Consiglio di Renzi mi pare che sia un po' equilibrata. Gli antichi statuti rivivono a Campli il 28 e 29 novembre con il patrocinio del Comune Farnese di Slow Food e del Ministero dei Beni Culturali. Due giorni di storia, cultura e gusto con una prestigiosa tavola rotonda, un menù farnesiano d'Abruzzo, visite guidate alla scoperta dello Stato Farnese in Abruzzo degli antichi statuti di Campli. È la prima iniziativa rilevante e importante per Campli dopo il gemellaggio con Ortona. Quindi un progetto che si fonda sulla storia del nostro territorio che ha molteplici caratteristiche e peculiarità. Quindi vogliamo valorizzare l'architettonico, i beni culturali che abbiamo e anche un profilo enogastronomico. Quindi ci sarà una tavola rotonda in cui ci saranno tantissimi studiosi a livello regionale, non solo, che parleranno appunto della storia di Margherita d'Austria e poi ci saranno tante visite guidate nelle aziende del nostro territorio. Una presenza molto importante a Campli e nello Stato Farnesiano d'Abruzzo dal 1538 al 1731. Quindi una presenza importante e notevole lungo il percorso naturalmente di più di 200 anni. Questo poi ha significato anche un rapporto stretto tra Parma e Piacenza e i nostri territori e quindi anche per quanto riguarda la vita sociale e più in generale anche per quanto riguarda i costumi e certamente questo rapporto ha significato qualcosa anche per noi, cioè per le nostre realtà. Quindi c'è stato un rapporto reciproco, una influenza e anche uno scambio tra queste esperienze pure così diverse e lontane. Vogliamo fare un progetto che riguardi tutto l'Abruzzo e parte del Lazio con tutti i comuni che facevano parte dei feudi farnesiani. Questo è l'inizio, è l'apertura, ci sarà il 28 a mezzogiorno un incontro con tutti i sindaci dei feudi farnesiani che sono stati invitati dal sindaco di Campli a presenziare la tavola rotonda e quindi inizierà questo percorso che durerà tutto il 2016. Ci saranno visite guidate dal punto di vista culturale e visite invece guidate dal punto di vista enogastronomico con le eccellenze del nostro territorio. Campli è un territorio da vivere e da scoprire e da riscoprire perché è rimasto un po' in ombra per troppo tempo. Ed ora la pagina dello sport che introduciamo con le schermate di Serie B oggi le partite della quattordicesima giornata con due posticipi ancora da giocare domani Bari-Livorno alle 17.30 lunedì alle 20.30 Cagliari-Ascoli poi nel pomeriggio si sono giocate Crotone-Ternana 3 a 0 Latina-Sahianisana 2 a 2 Novara-Spezia 1 a 0 Perugia-Brescia 4 a 0 Provercelli-Como 2 a 0 Trapani-Modena 2 a 1 Virtus Sentella-Virtus Lanciano 1 a 1 Vicenza-Cesena 1 a 1 Giocata ieri Pescara-Avellino 3 a 2 per una classifica che ovviamente vede sempre in testa il Cagliari con 29 punti si avvicina il Crotone a quota 28 in attesa chissà della risposta del Bari domani pomeriggio il Cesena che vinceva a Vicenza poi è stato agguantato e dunque la squadra di Drago non riesce a controsorpassare il Pescara anzi le due squadre ora sono appaiate a quota 24 punti e venerdì prossimo daranno vita allo scontro diretto come anticipo della quindicesima giornata Novara che sarà a quota 22 punti Livorno che gioca domani resta a quota 21 Brescia 20, Vicenza e Trapani 19 Perugia e Dentella 18 Latina-Provercelli e Spezia 17 Avellino 16 punti Saernitana e Modena 15 13 punti per Ascoli e Ternana La Virtus Lanciano resta penultima con 11 punti Como ultimo con 8 punti E allora subito il servizio del pareggio della Virtus Lanciano a Chiavari 1 a 1 Un pare in trasferta per la Virtus Lanciano Caparbi a passare in vantaggio contro una delle squadre più in forma del torneo La Virtus Entella di Alfredo Aglietti Albero di Natale tattico per Roberto D'Aversa che affida il presidio offensivo a Padovan Con Piccolo e Zedoardo a supportarlo in fase offensiva E all'occorrenza ripiegare a metà campo A centrocampo confermato il sempreverde Vastola Mentre tra i palici ancora Angelo Gasadei Per il resto non cambia nulla Con i due pezzi pregiati Amenta e Ferrari ancora out per problemi fisici Aglietti invece preferisce Aniello Cutolo dall'inizio a Costa Ferreira Fischia a Battista di Molfetta Avvio deciso dei padroni di casa Al terzo subito una girata di Caputo dal limite dell'area Ma para Casadei a terra Al settimo triangolazione stretta con Cutolo Che conclude dal limite Ma anche in questo caso la sfera è alta Cutolo supera anche Mammarella nell'azione successiva E costringe il capitano Frentano al fallo E a Battista a mostrare il primo giallo della contesa Si rivede Lanciano con Vastola Che però non inquadra lo specchio della porta Preludio però alla rete Che arriva al minuto 28 Recupero di palla dei Rossoneri Palla per Di Cecco A Padovan che conclude a rete Para Iacobucci E respinge ma nulla Poi il portiere Ligure Sul tapin Vicente del numero 24 Rossonero Dunque 1-0 per i Frentani Ma Lentella non ci sta E cerca subito la via del pari Ne ha anche l'occasione propizia Con il sempre presente Cutolo Ben servito da Belli in area di rigore Ma non è preciso Si rivedono i Frentani Calcio di punizione di Mammarella Dai 25 metri Ma la palla non inquadra Lo specchio della porta Al 41esimo E colossale la palla del pari Fallita dalla Virtus Centella al lancio Lunghissimo Superato anche Michele Rigione Sul rimbalzo Palla che arriva Ancora una volta Cutolo che senza pensarci Su due volte Spara a rete Ma la traversa Salva Casadei E la Virtus Lanciano Ad avvio di ripresa Subito una bella azione Virtusina Che però non ha esiti Positivi La Virtus Prova però A chiudere la gara Affidandosi Ancora una volta Una bordata È stato di piccolo Da fuori aria Ma Iacobucci Si salva in corner Al minuto 22 Però arriva Il pari intervento Scomposto di Mammarella Su Caputo Calcio di rigore Ed esecuzione Affidata proprio All'ex attaccante Del Bari Che fa 1 ad 1 Esce Padovan E di fatto Il Lanciano Giocherà Gli ultimi 20 minuti Di gara Senza un punto Di riferimento Di ruolo In avanti Un punto dunque Che muove la classifica Ma ad un terzo Del campionato archiviato E con solo due vittorie Finora totalizzate I tre punti Almeno in casa Diventano basilari E non più posticipabili Per il discorso salvezza E anche E soprattutto Un discorso attivo Sul calcio mercato Sin da ora È quantomeno Obbligatorio Da farsi Tanto una notizia Che arriva Sul fronte Spezia Perché È ufficiale È uscito anche Il comunicato Sul sito Ufficiale Dello Spezia Calcio Nenad Bielica È stato Esonerato La partita Di oggi A Novara Era l'ultima prova L'ultima chance Concessa dalla società Al tecnico croato Dopo gli ultimi risultati Negativi Ebbene Lo Spezia Ha perso Ed è uscito dunque Il comunicato Con Bielizza Che appunto È stato sollevato Dall'incarico Di responsabile Tecnico Della prima squadra Ci sono anche Ringraziamenti Di rito Da parte Della società Spezzina Che nelle prossime ore Annuncerà Il nome del sostituto Il nome più caldo Sembra essere Quello di Ciro Ferrara Ma in corsa Ci sarebbero Anche Domenico Di Carlo Ed il pescarese Andrea Camplone E a proposito Di Pescara Parliamo ora Della vittoria Di ieri sera Nell'anticipo All'Adriatico Cornacchia Contro l'Avellino Vittoria per 3 A 2 Il servizio All'Adriatico Davanti ad 8000 Spettatori Si affrontano Due delle protagoniste Dei playoff Dello scorso anno E che si prefiggono Di fare bene Anche in questo campionato In campo Il Pescara Ripresenta i nazionali Verra e Mandragora Con Fornasiere Al fianco di Zuparic Fra gli Irpini Tante le defezioni In difesa Il Pescara Inizia il match Con un piglio deciso Al quarto c'è un diagonale Di Verra in area In scivolata Di Gianluca Lapadula Che mette di un soffio A lato Dando l'illusione Del gol Agli spettatori Presenti in tribuna La gara è viva E regala emozioni Anche al 22esimo Con Biraschi Non al meglio Che getta la spugna E che viene sostituito Dall'ex difensore Del Chieti Giron Il canovaccio Della sfida Fra Biancazzuri E Biancoverdi E ben delineato Con il Pescara A fare la gara E gli ospiti A cercare Di reggere l'urto Al 28esimo Benali In contropiede Se ne va Verso Frattali Ma si allunga La sfera E permette Alla portiere Avelnese Di salvare Con Caprari Che poi non riesce A concludere Verso la porta Il gol Della formazione Di case Nell'area E arriva Al 37esimo Quando su cross Di Crescenzi In area ilpina Tocca con la mano Il pallone Chiosa E il rigore Che Memucciai Trasforma Con la consueta Freddezza Per l'1-0 Con cui si chiude Il primo tempo Nella ripresa Si ricomincia L'insegna Dell'equilibrio Prima del raddoppio Biancazzurro Griffato da Verre Al settimo Che festeggia Così con un Diagonale Perfetto Il primo gol In maglia Biancazzurra All'ottavo Trotta Impegna Fiorillo Ma il Pescara Domina E all'undicesimo E Zampano In area Ad alzare Sopra la traversa Ma chi pensa Ad una gara In discesa Deve ricredersi Perché al Diciassettesimo Zito Appena entrato in campo Lascia il segno Realizzando il gol Del 2-1 E che riapre La partita Il Pescara Rischia e traballa Ma resiste Anche se al 26esimo Fiorillo Colpito involontariamente Da Fornasier Resta a terra Per quasi 5 minuti Prima di riprendersi Ma superato il momento Di un passo Il Pescara Ritorna a colpire In modo micidiale Al 34esimo Con un erogol Di Gianluca Caprari Fa esplodere L'entusiasmo Dei supporters Biancazzurri Sul 3-1 Il Pescara Respira E poco dopo Sfiora Al 38esimo Il poker Che chiama al miracolo Con i piedi frattali Prima di colpire di testa Di poco a lato Sugli sviluppi Del calcio d'angolo Ma la sofferenza E di casa All'Adriatico Visto che al 45esimo Arriva sugli sviluppi Di un calcio d'angolo La rete di Mokulu Che va a colpire di testa Da due passi Fissando il punteggio Sul 3-2 E dopo un recupero Di 7 minuti Può iniziare La festa Sugli spalti Con il Pescara Che festeggia Altri tre punti Ed una classifica Che sa sempre più Di Serie A E ora parliamo di Lega Pro Con la dodicesima giornata Che è stata aperta Dalle due partite Che hanno interessato Le due abruzzesi È andata male Al Teramo Invece Buon punto Per l'Aquila A Macerata Ma partiamo Dal match Del Neri Di Rimini Con il Teramo Che è stato battuto Proprio sul filo Di lana Proprio sull'ultima Azione 2-1 Il finale Con tutte e tre Le reti Arrivate nella ripresa E a opera Di giocatori Che sono subentrati Dalla panchina Per il Teramo Aveva trovato Il momentaneo pareggio Le noci Con un calcio Piazzato Ma appunto Come detto Nel finale Si è materializzata La beffa Per la squadra Di Vincenzo Vivarini Il servizio Alla vigilia Della trasferta In terra di Romagna Il presidente Luciano Campitelli Aveva chiesto I tre punti Ai suoi ragazzi Al Romeo Neri È invece arrivata Un'altra sconfitta Dopo quella Del fattore dell'Aquila Per certi versi Rocambolesca E che mette Nei guai Biancorossi Scivolati ora In zona pericolo L'avvio di gara E dei ragazzi Di Vincenzo Vivarini Che cercano subito Di imprimere Un ritmo importante Al match Fra i più attivi Petrella E Paolucci Al diciassettesimo Abruzzesi Vicini al vantaggio Con Dorazio Che su una punizione Calciata da Amadio In area Mette di poco a lato Passa un minuto Il ragazzo Nell'area abruzzese Cerca il barco giusto Trovando una deviazione Della difesa Biancorossa Sugli sviluppi Del calcio d'angolo Arriva poi Il colpo di testa Di Di Maio Che incorna Però di poco a lato Al ventunesimo Discesa sulla sinistra Di Cecchini Per il Teramo Che crossa per Petrella Che al volo Alza incredibilmente Sopra la traversa Al ventitresimo Tocca anche a Stefano Moreo Che spizzica Il pallone di testa In area romagnola Mancando però Lo specchio della porta Al trentaseiesimo Si rivede la squadra Di Brevi Con il mobilissimo Ragazzo Che in area Teramana Da posizione Defilata Chiama però Tonti Alla respinta In calcio d'angolo Il portiere Teramano Deve poi Ripetersi Al quarantunesimo Su una conclusione Velenosa Di Di Maio Che non riesce Però a dare potenza Al suo tiro Nella ripresa Il Teramo Parte all'attacco Ma a sorpresa Alla terzo Il neo entrato Del Rimini Lisi Gela le vellità Aprutine Andando a realizzare Il gol del vantaggio Per la formazione Di casa Partita che si mette In salita Con i ragazzi Di Vivarini Costretti a spostare Il baricentro Del gioco Ancora più avanti Anche se al dodicesimo Bifulco Si divora il 2 a 0 Tutto solo Dalle parti Del portiere Tonti Vivarini tenta Il tutto per tutto E manda in campo Di Paolo Antonio E da Silva Al posto Di Paolucci E Cecchini Al ventiduesimo C'è un brivido In area romagnola Con gli avanti Che non riescono Ad intervenire Al ventitresimo Invece Pedrelli Con un missile Dai 25 metri A chiamare Tonti Salvataggio in corner Il Teramo sbuffa Soffre e rischia Anche se al trentasettesimo Petrella In contropiede Chiama alla respinta Con i piedi Anacora Pochi secondi prima Del pareggio Biancorosso Griffato da Giuseppe Lenoci Che su punizione Dai 25 metri Mette la palla All'angolino Dove il portiere Riminese Non riesce ad arrivare Ma il veleno Sta nella coda Perché il Teramo Dove aver provato A vincere la gara Al quarantanovesimo Subisce il gol Del 2 a 1 Con l'altro Neoentrato Polidori Che con un tiro Violentissimo Realizza la rete Che regala Alla sua squadra I tre punti Per il Teramo Ora è davvero Buio pesto Decisamente meglio L'Aquila Una buona prestazione Per la squadra Di Carlo Perrone Ed un punto meritato Sul campo Della seconda Della classe Che resta tale Avendo mancato La maceratese Il sorpasso Che ci sarebbe stato In caso di vittoria Per l'Aquila A segno Ceccarelli O per meglio dire Si tratta di un autogol Di forte Su una punizione Calciata Da Ceccarelli Forte L'estremo difensore Della maceratese Il servizio Della partita Con una buona prova L'Aquila Strappa un punto All'Elvia Recina Campo della vice Capolista maceratese 1-1 il finale Di una gara interpretata Sempre in maniera Propositiva Dall'undice rosso-blu Che se l'è giocata A viso aperto Rischiando qualcosa Ma cercando Con voglia i tre punti Che Perrone Volesse l'intera posta Lo si era capito Già dallo schieramento Titolare Dentro contemporaneamente Perne e De Sosa Sostenuti Sulle corsie laterali Da San Domenico E Ceccarelli Maccarroni in difesa Piva in panchina Tra i padroni di casa Qualche assenza di troppo In difesa Imparato Scala al centro Al fianco di Faiska Al primo affondo Proprii padroni di casa Sbloccano il punteggio Con una autentica Prodezza di Giordano Fioretti Cross di Danna E girata a volante In splendida coordinazione Del centroavanti Della rata Nulla da fare per Zandrini L'Aquila non ci sta Ma fatica a trovare spazi Contro una squadra Molto attenta In fase difensiva Il tiro di Milicevic Confermato in mediana E deviato in corner Da un difensore La maceratese agisce Di rimessa Al trentanovesimo Lo fa con una sortita Di buon aiuto Disinnescata da Zandrini Ma l'Aquila c'è Ed il piglio giusto Lo si intravede Dall'inizio della ripresa Già al settimo Perna Prolunga per San Domenico Che tenta il tiro in corsa Ma spara alto I rosso-blu Si avvicinano ancora di più Al pareggio Con un pregevole numero Di Ceccarelli Che si libera al tiro Ed esplode un sinistro Su cui forte Risponde da par suo Bravi entrambi Ma è il preludio All'1-1 Che arriva al ventunesimo Con i due giocatori Ancora direttamente interessati Gran piazzato Dell'attaccante Scuola Lazio La sfera picchia Contro la traversa Torna in campo Prima della carambola Sul corpo dell'estremo Difensore di casa Costretto a raccogliere Il pallone In fondo al sacco Pareggio E grande esultanza Sotto il settore riservato La tifoseria Rosso-blu Mister Bucchi Tenta le mosse Ganci e Alimi Al posto di Fioretti Buonaiuto E proprio Ganci Ha una buona chance Su cross di Clemente Di testa Entrambe le squadre Vogliono i tre punti De Sousa Conclude centralmente Blocca forte Ottantatresimo La parata di Zandrini Ancora più difficile Sullo spunto Di forza di Coco Un minuto dopo Botta dal limite Di Manuel Mancini Forte risponde Con i pugni In pieno recupero C'è un ultimo brivido Per l'Aquila Ma il risultato Non cambia Per la rata E il secondo pari Consecutivo Per l'Aquila Un punto che vale oro Specie per la prestazione Molto positiva Bene Era questo L'ultimo servizio Del TG6 Che tornerà lunedì Con la prima edizione Delle ore 14 Io vi ricordo Gli appuntamenti Di domani Con diretta stadio Intorno alle 14.25 E poi con l'Abruzzo Del Pallone Alle ore 19.30 E tutto Io vi auguro Una buonanotte Una buona domenica In colo Per l'Aquila Grazie a tutti.